eccomi ciao a tutti allora questo video perché vi avevo promesso che mi avrei fatto un video pre vipassana cosa andrò a fare dunque dal 2 maggio in avanti sarò completamente irraggiungibile da chiunque non avrò nessun tipo di contatto con la mia famiglia per i miei amici con i miei clienti con nessuno andrò ad imparare questa tecnica che viene dall'india si chiama vipassana meditation nella quale dovrò fondamentalmente meditare tutto il giorno dalle 4 alla mattina alle 21.30 alla sera il programma e le aspettative che ho per questo corso sono in realtà medio alte nel senso che mi aspetto comunque tanto un corso veramente impegnativo la tecnica che promette tantissimo soprattutto per quanto riguarda la sensibilità la sensibilizzazione è una tecnica che prevede di mettere in relazione la nostra parte inconscia con il fisico quindi mi allenerò ad ascoltare molto bene le sensazioni fisiche che avrò e ad ascoltare come cambiano ad ascoltare tutti i segnali che il mio corpo mi dà e vi cercherò dire sicuramente qualcosa di più al mio rientro che sarà il 13 di maggio in questo momento non mi viene altro da dire quello che è certo quello che è certo è che il lavoro su di sé anche isolato dal mondo e che poi comunque e vi puoi comunque sempre servire per passare al meglio al nostro interno per essere persone sempre mi equilibrate con la famiglia con gli amici con i bambini e con gli amici con i bambini e con i bambini e con i bambini e con gli amici con gli amici